Villa Tedeschi a Pozzallo e Palazzo Bruno a Ispiga sono i due soli patrimoni della provincia di Ragusa inseriti dal governo nell'elenco dei patrimoni che godranno di un cospicuo finanziamento grazie al progetto Bellezza. Recuperiamo luoghi culturali dimenticati. Per quanto riguarda la villa di Pozzallo, oggi sete della biblioteca comunale, sarà destinata la somma di 1.925.000 euro. Il progetto riguarda l'intera struttura, compreso il giardino e la piazza. Inoltre a gennaio saranno appaltati i lavori di ristrutturazione per un importo di un milione di euro. Nell'elenco dei 273 interventi approvati dal Ministero rientra anche Palazzo Bruno, sede del comune di Ispiga, che riceverà la somma di 1.850.000 euro. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci delle due città. Roberto Ammatuna ha sottolineato come questo finanziamento, ottenuto grazie ad un piano voluto dall'ex premier Matteo Renzi, consentirà di rendere fruibile l'importante e prestigioso sito storico della città marinara. Con una nota congiunta, il primo cittadino di Ispiga, Pierenzo Muraglia, e il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Roccuzzo, hanno raccontato i passaggi che oggi hanno portato all'importante risultato. Per Muraglia, Ispiga sta vivendo un grande momento, dopo la notizia della legge salva dipendenti, approvata dalla Regione, l'inserimento di Palazzo Bruno nell'elenco dei beni selezionati è un grande traguardo per la città.